A dire, i meglio erano quelli che non ci sono più, non è vero, erano tre bravissimi ragazzi e non si sta perché quando si tratta di ragazzi, i ragazzi sono tutti bravi, tutti. Quindi noi, noi Wisp, abbiamo voluto dedicare questi tre campini per tenerli vivi, per ricordarli sempre. Quindi loro hanno giocato su questi campini, ci sono divertiti e ci hanno fatto divertire. Quindi oggi scopriamo queste tarche, dedichiamo a loro questi campini, abbiamo avuto l'onore di avere l'onorevole, abbiamo il parroco, non è ancora parroco di Sacro Cuore, però che benedirà i tre campini. Quindi ragazzi, io passo la parola ora all'onorevole, ricordatevi che questo da oggi, da oggi, è un ricordo, mi viene, perché l'ho conosciuto troppo bene, da oggi è di anche nome, ci sarà, ci sarà il numero l'onore. Grazie a tutti, ho detto belle parole anche di questa commozione, anche perché tre ragazzi, Gabriele, Marco, Daniele, che giocavano qui, come tanti altri, come me, io ho sempre partecipato ai torni ai Wisp, ho fatto il calcetto, i ragazzi amavano lo sport e la vita, purtroppo delle volte la vita non è bella come vorremmo sempre, come ci auguriamo, come speriamo, però fa sempre piacere ricordare i ragazzi che hanno vissuto, anche qui, hanno vissuto la loro vita dietro a un pallone, ma con sempre la voglia di vivere. Certamente siamo qua anche per ricordarli, per ricordare che questi due campi della Wisp è tenuti bene e sempre davvero all'avanguardia con quello che fate, con l'amore che ci mettete per mantenerli, per tenerli sempre puliti, a disposizione dei giovani, e soprattutto per i giovani lanciamo questo saluto per il futuro, perché a noi interessa i ragazzi che crescono bene in un ambiente sano, in un ambiente dove si fa sport, dove si vive la vita nella maniera più piena che possiamo fare, cioè nell'amicizia. Grazie. Una carica di un campo di calcio dove si gioca, dove si sorride, dove si vive, è bellissimo. Grazie, grazie di cuore.